ciao a tutti gli amici di betting exchange parliamo oggi della tassa errata che è stata approvata nel dl rilancio e cerchiamo di capire quali sono gli scenari allora ieri 16 luglio è passato il dl rilancio anche al senato e questo dl rilancio presenta come stiamo dicendo da circa due mesi l'ha detto prima il sole 24 ore poi l'abbiamo rilanciato anche noi l'hanno detto tutti quanti c'è una tassa che è errata una tassa sbagliata che applicata al betting exchange rende impossibile l'utilizzo del betting exchange legale perché significa pagare più del doppio in tasse rispetto a quanto si percepisce per farvi un esempio se ho fatto io un esempio del barbiere arriva un cliente che gli da 12 euro per il taglio e però per ogni taglio di 12 euro il barbiere deve allo stato circa 25 26 euro naturalmente questa è una cosa impossibile e la tassa è talmente errada che all'inizio non avevamo considerata c'è ogni decreto legge a 60 giorni proprio per essere sistemato e infatti la domanda che dovremmo porci è come fa ad essere questa classe politica così inefficiente da non essere in grado di rilevare un errore del genere ma questo è un altro argomento qui non siamo a fare politica qui siamo a fare dei ragionamenti pragmatici per capire che cosa succederà ora perché non si può danneggiare il gioco legale che già è stato danneggiato molto con un'altra legge che secondo me è errata quella del decreto dignità dove vietando completamente la pubblicità si è fatto lo dico io ma ci sono anche i numeri e lo vedo comunque anche da dagli utenti che mi scrivono e sono sempre più ignoranti in termini di gioco legale si sta facendo un assist all'illegalità allora secondo me qual è la situazione che succederà ora si blocca che cosa faranno i bookmaker che hanno l'exchange si bloccano e non lo offrono più secondo me no conviene andare avanti perché l'errore è talmente valese che le strade devono essere quella di un accordo con le istituzioni la via più banale potrebbe essere quella di una causa dei bookmaker exchange allo stato italiano che a quel punto dovrebbe sborsare milioni e milioni in danni ma secondo me la virtù è nel mezzo e ho proposto io una soluzione immagino credo spero che in realtà i bookmaker già ci abbiano pensato che quella dell'interpello che cos'è l'interpello leggendo dal sito dell'agenzia delle entrate l'interpello è un'istanza che il contribuente rivolge all'agenzia delle entrate prima di attuare un comportamento fisica fiscalmente rilevante per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione all'applicazione o la disapplicazione di norme di legge di varia natura relative attributi erariali quindi è proprio questo il caso l'interpello che cosa si può fare a questo punto si può fare un interpello all'agenzia delle entrate l'agenzia dell'entrata a quel punto le risposte possono dare visto l'errore evidente mi immagino che siano due i scenari il primo scenario è che la tassa non è applicabile alle scommesse in modalità exchange quindi semplicemente non si paga la tassa questa è una prima ipotesi la seconda ipotesi secondo me anche la preferibile è che la tassa si paga ma viene calcolata sulla base dell'attuale tassazione sulle scommesse exchange che si basa sulla commissione non sulla raccolta questa secondo me è la soluzione più semplice quella che risolverebbe tutti i problemi quindi io dico ai bookmaker tenete duro e in questo momento lo stato italiano vi sta facendo un torto ma lo stato italiano sicuramente capirà l'errore e si troverà la soluzione quindi nella diciamo nella mia idea c'è che dal 19 luglio in poi si continui ad utilizzare il betting exchange però è importante parlare subito con l'agenzia delle entrate e risolvere il problema visto che il parlamento non è riuscito a farlo questo è tutto e ci vediamo alla prossima ciao